Caro amico o amica, come prima cosa ti do il benvenuto a questo video. Troverai tante affermazioni molto potenti per attirare abbondanza, denaro e prosperità nella tua vita. Tutte queste affermazioni sono state scelte con cura, con consapevolezza e con molto amore. Prima di partire, però, è importante chiarire una cosa, perché senza questo chiarimento le affermazioni potrebbero comunque perdere un po' del loro potere. Il chiarimento riguarda essenzialmente una domanda. Che cos'è il denaro? Prova proprio a domandarlo a te stesso o a te stessa. Che cos'è il denaro per te? Che cosa sono i soldi? I soldi non sono altro che un'energia neutra. Un'energia che ti permette di vivere delle esperienze. Un'energia con cui puoi scambiare una cosa con un'altra. Ciò nonostante, a causa dell'educazione che abbiamo ricevuto, a causa di una serie di condizionamenti a cui siamo stati sottoposti, e a causa di una serie di convinzioni limitanti che adesso albergano nel nostro inconscio, molto spesso il denaro non fluisce nella nostra vita come potrebbe. Queste affermazioni hanno proprio il potere e l'intento di fare sì che il denaro e l'abbondanza tornino a fluire in modo naturale nella vita di ciascuno di noi. Fai un respiro profondo e poi iniziamo subito. Vivo ogni giorno come un nuovo dono. Sono pronto a trasformare ogni limite. Sono pronto a lasciare andare ogni credenza limitante. Sono pronto a vivere pienamente, come non ho mai vissuto finora. Sono aperto a tutte le opportunità che la vita mi offre. Merito di vivere nell'abbondanza. Ho i mezzi e le capacità per realizzare ogni mia idea. L'abbondanza è presente nella mia vita in forme sempre nuove e sorprendenti. La prosperità bussa alla mia porta ogni giorno. Trovo sempre nuove ragioni per provare gratitudine. Io sono abbondanza. Ho superato ogni pregiudizio nei confronti del denaro. Sono consapevole che attraverso il denaro posso fare grandi cose. Amo osservare come il denaro fluisce nella mia vita. Ho sempre tutto ciò di cui ho bisogno. Mi arriva sempre di più rispetto a ciò di cui ho bisogno. Ho sempre la possibilità di aiutare un amico che ha bisogno. Anche quando sembra mancare qualcosa, nutro una fiducia totale nel fatto che le cose arriveranno nel momento giusto per me. Io sono abbondanza. So che le cose accadono per una ragione. Ricordo di essere qui per una ragione. Sono connesso al mio scopo. Accade sempre il meglio per me. Sono pronto ad avere una nuova relazione col denaro. Ogni giorno miglioro i miei pensieri sul denaro. La mentalità di abbondanza diviene in me ogni giorno più forte. I soldi arrivano facilmente sia da fonti attese sia da fonti inattese. I soldi sono miei amici. Il denaro è mio amico. Io sono abbondanza. La mentalità di abbondanza diviene in me ogni giorno più forte. Sono un magnete per il denaro. Sono un magnete per la bellezza. Sono un magnete per la bontà. Attiro in ogni istante ciò che è giusto per me. Se la mia vita fosse uno strumento, suonerebbe la musica dell'abbondanza. Se la mia vita fosse uno scalpello, scolpirebbe la statua della prosperità. Se la mia vita fosse una danzatrice, si muoverebbe sulla danza della ricchezza. Io sono ricchezza. Sono aperto a ricevere. Sono disposto a dare. La mia mente è aperta. La mia mente è libera. Svolgo un lavoro che mi soddisfa. Svolgo una professione che mi appassiona. Svolgo di vivere le mie passioni in ogni momento. Ho sempre tempo ed energia da dedicare alle persone che amo. Ho sempre tempo ed energia per progettare il mio futuro. che so essere radioso. Ho fiducia nel futuro. Ho fiducia in me stesso. Ho fiducia nelle mie capacità. Sono consapevole di avere di fronte a me infinite possibilità. Il mio successo è inevitabile. Vivo in un mondo straordinario. Vivo circondato dalla bellezza. Vivo circondato dall'abbondanza. Parlo il linguaggio dell'abbondanza. Io sono abbondanza. Mi sento bene. So che le cellule del mio corpo si stanno rinnovando in ogni istante. Sono pronto ad accogliere ciò che l'universo ha da darmi. sono pronto ad accogliere i suoi doni. Non vedo l'ora di accogliere i suoi doni. Ogni mattina, quando mi sveglio, mi sento curioso. Mi chiedo che cosa avrà la vita in serbo per me oggi. Ho fiducia nel presente. Ho fiducia di poter lasciare andare il passato. Ho fiducia di poter costruire il futuro che desidero. Grazie, amico mio. Grazie, amica mia. Grazie per essere stato qua. Su questo canale ci saranno tanti altri video come questi, se lo vorrai. ti invito ad iscriverti, se ancora non l'hai fatto, e di tornare a trovarmi. E ti mando un grande, grandissimo abbraccio, pieno di spiragli di luce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.